Ciao, ciao a tutti, un bacio a tutti, benvenuti in questo nuovo video in collaborazione con Lucrezia del canale Una Youtuber per Casa. Sotto nell'info box metterò il link del video cerebello al mio. Sono felicissima di collaborare con te Lucrezia, è tanto che ci diciamo di fare qualcosa insieme. Ma gli impegni e comunque altre collaborazioni non ci permettevano di poter intersecare bene. Mi sono bruciata, non ci fate caso, ma il bello non è che mi sono bruciata, che stava anche guarendo, è che così mi sono grattata. Non potete capire cosa ho visto io, mi sono separata davanti tutta la schiera degli angeli, tutta fame e così, ma che davvero un dolore, non potete capire. Mi sono praticamente scarnificata io, quindi sta guarendo, non fateci caso, che vi stavo dicendo. E che praticamente non riuscivamo a trovare qualcosa che potesse permetterci di poter collaborare. Mi sto anche strozzando, sarà l'emozione, l'età, non lo so. Resta il fatto che abbiamo deciso di fare quel video che mi era rimasto un attimino in coda. I prodotti finiti, quindi questo è il video dei prodotti finiti in collaborazione con Lucrezia. Sarà sempre così. Sono veramente felice. Con una variante possiamo decidere di far vedere qualche prodotto che ci è piaciuto e qualche prodotto che non ci è piaciuto, oppure direttamente tutta la busta e far vedere bene tutti i prodotti che abbiamo consumato in questo periodo. Questi sono i prodotti finiti di marzo. Adesso li andiamo a vedere insieme. Sono felice. Ciao. Allora, primo prodotto di marzo che io volevo far vedere, perché io so, così ce vado a sbattere, ma continuo, io do una possibilità, è questo. Qui io dovevo uscire in mogano. Quindi, quindi, pagato poco, ma non vuol di niente, perché anche quelli dell'Eurospin li pago poco, eppure sono buonissimi. Questo pagato poco, 3 euro e qualcosa, dovevo uscire in mogano, sono uscita arancione, e niente, ho lasciato perdere, quindi non va bene, non mi piace, non lo comprerò più, anche se è in offerta, non lo comprerò più, perché proprio non vale, non vale proprio la pena, mi rovina i capelli e quindi finito. Questo, altro prodotto, col quale io, cioè, ne faccio una, non manco una pena per le mani, però, che sei messa, Erika. No, ma va bene. Bellissimo, Erika, brava. Continua così, Core. Feri, io continuerò a utilizzare Feri, fino a quando Feri mi darà la possibilità di comprare questo prodotto pulito. Finito. Liquido. Fino a quando me lo permetterà, io continuerò a comprarlo, perché a me mi piace troppo. Non ce posso fare niente, come mi piace tanto questo, il Munamur ce l'ho ancora, ce n'è un piccino, ma questo, ma come si fa, dite no a questo. Non faccio altro che finisce uno, attacca un altro, finisce uno, attacca un altro, ma quanto mi piace questo qui, è il più buono, e da quel che sento, tutti usano questo. Quindi, rendetemi voi conto quanto è buono. Questo quanto è meraviglioso. Nivea, non c'è niente da fare. Nivea è buonissimo, se devo scegliere un bagno schiuma, sceglierò sempre Nivea, anche se è quello che sto utilizzando adesso, che vi avevo già fatto vedere, è della Biopoint, è quello lì. Sono veramente meraviglie. Quello non permetto a nessuno di utilizzarlo, quello è mio, se lo volete ve lo comprate, ma questo è mio, proprio sulla pelle, mi sta bene proprio addosso, quindi lo aturo. Ho finito questa acqua di rose che sgrasciava come se non c'è fosse un domani, ma avevo pagato un euro, sono quelle misure piccoline, quelle small, che ogni tanto mette a disposizione il supermercato, o comunque io questo l'ho comprato alla bottega verde. Dove l'hai comprato, Erika? Ha questa buona, eh? E mi sta comodo, così. È finito, guardate quante che ce l'ho, è finito. Altro prodotto che voglio condividere con voi è questo qui, è questo qui, che conoscete tutti. Pannoloni, Erika, pannoloni si chiamano, del cane, 60 per 90, 3,99 euro, alla Lidl. A me piace tantissimo. E siccome domani devo buttare la plastica, ne approfitto per fare i buston, perché se no c'è proprio di là pieno, pieno, pieno. Altro prodotto col quale io mi trovo bene, scusate ma me danno fastidio i capelli, col quale io mi trovo bene è questo qui, della Gled, questo qua, Romantic Vanilla Blosson, che lì per lì, la prima volta che l'ho sentito, ho detto, ma te che sa, ma perché tu sei venuta a casa mia? E invece vedevo di che è buono. Confermo, è buono. 99 centesimi, uno ne compro, uno lo prendo, che è la stessa cosa. Uno finisco e uno ne compro, o sempre comunque uno di scorta, è questo qui, sono per pulire gli occhiali, queste pezzette umide, che trovo veramente comode. 99 centesimi, sono 54, e sono comodissime. Ecco, le porti in borsetta, sono proprio piccoline, come non ce n'è manco ovviamente finito, e come ce n'è poi se uno. Sono pacchettini sottili. Te le metti in borsa, in tasca, non ti dà fastidio, ti pulisci sempre gli occhiali, gli schermi, quello che vuoi. Altro prodotto col quale mi trovo bene, quanto mi piace, 1,40 euro, però non te lo regala, e costa meno la colgate a volte. Ma questo qua è un'offerta, ce l'ho visto poche volte, è sbiancante dell'erbolisteria, addiga. Salve bicarbonato, questo perché adesso ho preso menta e eucalipto, non ve dico, non ve dico, a me la menta non la sopporto proprio più. Questo qui è buonissimo, io ve lo consiglio sbiancante, sbianca davvero, e bello, bello, 1,40 euro, ma li vale tutti, veramente. Altro prodotto finito, e che devo ricomprare, perché mi ci trovo benissimo, è questo qui, candeggina più sgrassatore, è una mousse, della Lidl, mi ci trovo veramente bene, questa è proprio la schiuma, quando lo premette, fa proprio la schiumetta, capito, e quindi rimane localizzato, non si espande, e vedevo di che mi piace tanto, quindi questo devo ricomprare, non so quanto costa, non mi ricordo. Qua ce n'ho un altro, perché quella era al limone, sì, perché io ho praticamente, siccome sono due mesi che non faccio i prodotti finiti, sì, mi sbaglio sempre quei preferiti, i prodotti finiti, allora, non so, praticamente, ce n'ho due, quindi 60 giorni, so due mesi, ecco, a me mi dura anche di più, perché ce ne metto di meno, i piatti vengono puliti ugualmente, faccio sempre il lavaggio grande, lo faccio sempre di sera, e mi dura di più, però è due mesi, tutto è giusto a due mesi, poi, altro prodotto, allora, questi mi piacciono, perché sono decorativi, se poi dobbiamo decidere, che te lavano pure, Erika pretendi tanto, però questi sono decorativi, in bagno, mi dà che tanto d'allegria, quindi l'ho comprato, palmolive, c'era anche quella tartaruga, quindi prossimamente, comprerò la tartaruga, perché questi sono un amore, questi sono, mi piacciono, non lo so, Giulia quando l'ha vista, ha detto, mamma, come quando ero piccola, eh sì, perché sono decorativi, ecco, poi, se ci si mette dentro qualche altra cosa, sparisce il pesciolino, non si vede più, è un peccato, perché a me piace tanto, questo Beyoncé, antiossidante, stava nell'altro bagno, molto buono, anche questo, molto buono, Michele, come bagnoschiuma, lo ama veramente tanto, oligo, minerali, termali, giapponesi, antiossidante, questo qui è buono, poi, per chi non lo sapesse, ce deve essere anche il mio, guarda, li posso mettere a confronto, proprio, allora, svelto, io compro sempre le ricariche, non compro mai il colso, no, perché lo verso, nel, nel, in un dispenser, e quindi, diciamo, che così fare, oppure del cuci, che devo da fare, però, uso sempre questi, e per la convenienza, e perché a me piace proprio, questo svelto, sia questo, questo, nel, se ne l'ho comprato, diciamo, che, a differenza dell'altra volta, forse, ero un po' più, predisposta io, mi è piaciuto, ecco, questo mi è piaciuto, eh, però, è, come posso dire, è, è meno denso, ecco, rispetto a questo, questo è meno denso, però, se vedevo di ebore, ammazza che ammacello, che sono anche qua, il sacchetto azzurro, permette tutto dentro, perché io approfitto, una volta che preparo, io poi questo domani, ho la plastica, quindi metto fuori tutto, e non se ne va proprio, altro prodotto finito, dopo un tempo in memore, è questo qui, eccolo qui, questo qui, della Sien, eh, questo alzambuco, c'è anche al melograno, non valgono, diciamo, delle due, eh, però, se devo scegliere, scelgo questo qui alzambuco, ecco, questo è un po' più buono, allora, quanto è buono questo qui, Dermomed, ha tirato fuori adesso, ha questo sapore, ce l'ha anche Ticota, ce l'ha tutti, Dermomed, è veramente buono, eh, ha tirato fuori l'Eurospin, no, ha questo buono, l'Eurospin, io questo l'ho preso da risparmio casa, ma ce l'ha anche, i supermercati ce l'hanno di marca, Dermomed, quanto mi piace, buonissimi tutti e due, buonissimi, quindi questo ve lo consiglio, pagato pochissimo, e vale veramente tanto, altro prodotto, allora, questo shampoo riparatore, dell'erboristica, nutriente, anti-aridità, semi di lino, burro di karité, ma lasciato come mi ha trovato, proprio, né de me, né de te, né de qua, né de là, ecco, non lo so, non mi ha detto niente, 99% di, e se lo leggi, di ingredienti di origine naturale, lo leggi, o per microscopico, è microscopico, dice, Enrica, c'è gli occhiali, se ho capito, ma questo è da lettura, non è da lento di ingrandimento, ideale per capelli secchi, sfibrati e trattati, sì, però, cioè, non è che una volta lavato con questo, dite, ammazzo, ma che so, capelli, pare seda, invece no, non mi ha dato sta sensazione, quindi, ne de me ne de te, vedete, questo qua, questo, io l'ho associato con questo, li ho fatti tutti e due insieme, per dargli un po', un po', così, così, io sono uscita arancione, se facevo due ramati, cioè, ho avendoci i capelli lunghi, se facevo due ramati, io, cioè, scusate, due mogoni, io uscivo fuori proprio una cosa che non si poteva guardare, quindi do una botta di scuro, è finita, è finita le mie buvoli pindarici, pannoloni, come se piovesse, quanto invece trovo bene, è la crema che ho anche adesso, uso solo questa, olio d'oliva, sì, olio d'oliva, oliva, si chiama, questo qui è crema idratante, 24 ore, per pelle, per pelli mature, ecco, per pelli mature, diciamo, che questa qui, l'ho comprata da, acqua e sapone, se ve va sugli occhi, proprio che, non ve fa niente, né ve brucia, né ve cosa, niente, niente, io uso solo questa, dice Erika, se vede infatti, no, però, la pelle, è veramente, è morbida, è bella, è corposa, quello è perché mangi Erika, ho capito, ma c'è anche questa, che è buona, e va sicuro, che con questa, la pelle, non ve se squama, non ve rovina, non ve se rossisce, non ve se rossisce, è buona, questa ve la consiglio, il baffone, che tutto può, è uno spin, altri pannoloni del cane, questa che me la so finita, oh, mia gremina delle mani, me la so finita, questa è quella che ho sul comodino, niente, devo ricomprarla, adesso mi segno tutto, tanto me ne devo andare a prendere, altra roba, e questo qui, Nivea, per sotto le braccia, noi usiamo questo, sia io che Giulia, senza nessun problema, non sono tutti i prodotti, però, devo aver buttato, un sacco di roba, poi questa qui, una ricarica, alla vaniglia, però, non mi ricordo, niente, quindi, l'ho preso, ma, non lo so, non so che dire, vi mando un bacio, video finito, andate a conoscere, Lucrezia, vi mando un bacio, ve l'ho già detto, che vi voglio bene, ve l'ho detto, no, 15 minuti, quasi, sono stata brava, però, adesso, metto tutto a posto, sta plastica, butto tutto, e niente, finiti, vi mando un bacio, ciao, a presto, ciao, ciao,